Siamo arrivati al 23 luglio 2020 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dalla riete. Oggi non avrete problemi di conquista. Sono favoriti incontri inattesi e piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Toro, non è il momento di sperperare denaro o di fare progetti ambiziosi. Nell'ambito familiare avrete l'affetto che desiderate e certamente saprete ricambiarlo sinceramente. Gemelli, non lasciatevi influenzare dai malumori del partner ma cercate di capire che sta attraversando un momento particolare. Stategli vicino e spiegategli quanto siano sinceri e profondi i vostri sentimenti. Cancro, in amore se già avete avuto modo di esprimere i vostri sentimenti, cercate di adottare una strategia di attesa. Le pressioni non serviranno a granché, anzi rischiano di complicare la situazione. Leone, colloqui decisivi. Se riguardano il lavoro puntate sulla professionalità, sul vostro spirito d'iniziativa e sulla fantasia. In famiglia non assumetevi responsabilità che non vi competono assolutamente. Vergine, sensuali e travolgenti come non mai, potete fare una miriade di conquiste. Avete solo l'imbarazzo della scelta, ma purtroppo tutto ciò non basta colmare del tutto il vuoto lasciato da una persona ormai lontana. È la vita. Bilancia, parlantina e senso dell'equilibrio le doti di maggior spicco per i nativi della seconda decade. E riuscirete a convincere familiari e parenti della validità di una vostra iniziativa. Scorpione, intuito e fantasia favoriscono la realizzazione sul piano professionale. Evitate di gridare ai 4 venti i vostri successi e guardatevi sempre alle spalle. Sagittario, due le doti di maggior spicco per voi nativi sotto questo segno. Lealtà e sincerità che vi faranno fare passi da gigante al lavoro come nella vita privata. Per i più giovani un'importante telefonata in arrivo. Capricorno, in amore è meglio evitare discorsi complicati o possibili chiarimenti e prendere fra le braccia la persona amata. Qualche problema al lavoro dovuto a un'incomprensione con un collega appena arrivato. Acquario, al lavoro non mancheranno scontri di personalità piuttosto accesi. Preparatevi, ma soprattutto prima di ruggire addestratevi ad ascoltare e valutare le ragioni del vostro antagonista. Pesci, decisamente questa giornata inserbo per voi grandi soddisfazioni, ma non vi risparmia qualche spinosa situazione che in ogni caso saprete gestire alla grande. Attenzione allo stress!